e benvenuti a tutti in un nuovo video ragazzi oggi nuovo pacco allora ragazzi questo è uno dei componenti del mio progetto quale progetto il più grosso ragazzi l'inseguitore solare e allora andiamo ad aprire ti lascio intanto sotto in descrizione ragazzi il link diciamo che questo pacco era imballato ragazzi eccolo qui è arrivato così ma poi nel concreto sono due scatole differenti e allora questo dovrebbe essere il controller per l'inclinazione contenuto del kit kit per inseguitore solare telecomando a distanza piccolino infrarosso centralina questa ragazzi è la centralina che ti andrà a controllare tutto il meccanismo eccola qui questa si apre tramite una due tre quattro vidi laterali e ragazzi in questo video come anche nel precedente sto provando il microfonino dimmi sotto come mi senti questo è il sensore luminoso ok questo andrà messo su una delle strutture dei nostri pannelli qui in alto ok in base al sole come va a prendere il sensore lui andrà a scegliere in automatico le varie inclinazioni la centralina qui comunque ai tasti di controllo di programmazione di setting dei vari canali ragazzi questo è un doppio asse ripeto te lo lascio sotto in descrizione ci sono anche quelli mono asse singolo asse ma considerando il prezzo alla fine ragazzi io andrò a utilizzarne solo un canale l'altro canale per il momento lo lascio da parte ma se un domani voglio ampliare il progetto e modificare tutta la struttura andando a creare un altro braccio per poter non solo regolare l'inclinazione ma eventualmente far anche ruotare i pannelli perché no il mio controller è compatibile col doppio ok col doppio canale ripeto a dirvi che questi scatoli sono imballati in maniera perfetta talmente bene che non riesco a trovare l'apertura e questo ragazzi è il sensore di vento questo è proprio un vero e proprio microeolico perché alla fine qua dentro c'è un motore elettrico infatti eccolo qui in base a quanto girerà questo il controller andrà a capire se c'è o non c'è vento se c'è vento in maniera automatica perché dal voltaggio che viene prodotto dal motorino più vento c'è più gira più gira più alto il voltaggio e programmando anche la soglia di protezione lui cosa farà se in quel momento i pannelli sono alti e c'è questa affolata forte di vento lui cosa fa in automatico metterà in protezione i pannelli ragazzi questo è un funzionamento da non trascurare molto molto importante per la sicurezza dell'impianto vado ad aprirlo vado ad aprirlo e vediamo cosa abbiamo come elettronica interna ok 1 allora il kit non è ancora completo mancano ancora dei degli accessori da implementare al tutto però arriveranno credo a breve bene 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 eccolo qui andiamo a smontarlo ok le 4 vidi c'è anche il display nella parte frontale eccolo qui se andiamo a prendere ragazzi guardate che lavori bellissimi sotto in descrizione il link allora andiamo ad analizzare la scheda ok qui c'è la nostra scheda perciò qui abbiamo wind sensor speed qui dobbiamo andare a cablare il sensore ok il sensore di vento che abbiamo visto prima qui abbiamo dc input qui va un alimentatore 12 volt polo positivo polo negativo e qui ragazzi abbiamo nord sud ok e qui abbiamo est ovest io nel mio caso andrò a regolare solo ed esclusivamente questo nord sud ok questa porta mi resterà vuota e poi questi sono i relè 1 2 3 4 qui abbiamo limit sensor switch perché appunto mancano ancora loro i sensori di limite perché io non voglio che questi pannelli si alzino troppo giusto cosa devo fare devo mettere dei sensori di fine corsa ecco perché è vero che i miei motori ok i miei motori possiedono incorporati i sensori che bloccano la salita quando arrivati ma se io volessi far bloccare la salita molto più sotto di quanto loro possono considerando che ragazzi i miei motori i miei bracci sollevatori alzano anche 90 95 forse anche un metro ed è esagerato ok detto questo dobbiamo andare a montare cosa dei sensori esterni per dire alla centralina fermati sei arrivata al massimo oltre non puoi andare qui abbiamo tutti i tastini uno due tre quattro cinque sei tastini display con il sensore infrarosso eccolo qui due fusibili fusibile uno fusibile due da 10 ampere e qui c'è tutto il gablaggio che abbiamo visto che quello del vero e proprio sensore la cella che andrà a prendere i raggi del sole e li analizzerà e andrà a scegliere poi di risposta quale dei due canali andare ad attivare ovviamente lui internamente cosa farà farà anche l'inversione perché per esempio polarizzato il motore direttamente si aprirà indirettamente perciò invertito positivo negativo il motore si andrà a chiudere tutto tramite i due normalissimi poli appunto abbiamo uno due tre le per ogni canale diretto indiretto perciò qui invertito ok ci siamo avete capito spero di sì niente ragazzi per questo video è tutto ne farò un altro quando ci saranno anche i sensori di limite andremo a fare anche una prova più avanti andando a mettere sia qui che qui gli attuatori lineari in mio possesso e l'alimentatore ovviamente andremo anche a mettere il sensore di velocità del vento così da provare se veramente funziona tutto per bene faremo una prova di programmazione della centralina io ragazzi in questi giorni me la studierò e andrò a capire al meglio come si programma e poi vi farò sapere nella scheda ci sono anche dei led 1 2 3 4 led sono led spia e ti diranno in tempo reale le informazioni poi riportate sulla grafica della copertura se non sei ancora iscritto al canale fanno immediatamente grazie per la visione del video da fox dalla centralina per inseguitore solare due canali è tutto iscriviti al canale abbonati se vuoi sostenermi e se vuoi vedere ulteriori video continua a seguirmi ciao ragazzi al prossimo video ciao